Se facevo x like ad un tipo di contenuto, dicevo cavolo il pubblico vuole quello, devo fare assolutamente quello, se no domani non mi caga nessuno Passa dal basement, passa dal basement, passa dal basement Bella raga, ciao a tutti, sono Gianluca Gazzoli, sentite il pubblico questa volta, nuovo appuntamento di Passa dal basement con il pubblico in sala No non è vero ovviamente un effetto e questa era una battuta, no scherzi a parte, nuovo appuntamento con Passa dal basement Sono molto contento perché appuntamento dopo appuntamento le cose stanno in qualche modo crescendo O meglio personalmente sono sempre più interessanti almeno le chiacchierate che stiamo facendo qui perché stanno passando persone interessanti Poi il fatto che persone interessanti siano anche amici è un valore sicuramente in più e quindi sono molto contento che oggi dal basement è passato Gabriele Vagnato Non stanno assolutamente crescendo le cose perché ci sto io qua, capito? Non è un declassamento Però aspetta forse devo aver sbagliato, con noi c'è Massimo Bagnato o no aspetta Michele Massimo e Valeria Lundini Ecco, allora Nemmeno Valerio Valerio sarebbe stato un complimento gigante Qual è stato il nesso? Non lo so, allora è uscito questo Dovevo presentare con Andrea De Logo questo piccolo Questo incontro Esatto, a piazza San Pietro per il Papa Esce il comunicato stampa, penso, dell'ufficio stampa del Vaticano, di chi organizzava quell'evento e scrivono Gabriele Vagnato I giornali lo ricevono e dicono questo qua non lo conosciamo, cambiamogli il nome Ah, c'è proprio Michele Bagnato, la prima notizia Certo, certo Ad un certo punto un altro giornale molto importante si rende conto, dice ma chi è questo Michele Bagnato È impossibile che esista Michele Bagnato, si saranno sbagliati Sarà Massimo Sarà Massimo Bagnato Che è un comico, anzi mi fa molto ridere Massimo Bagnato Allora esce la notizia, Massimo Bagnato poi uno non online ma in carta stampata decide di scrivere Valeria Lundini Così, da niente Tu pensa di getto come è vero La cosa più bella è che Valeria Lundini era scritto nel trafiletto sotto Quello sopra c'era scritto Andrea De Logu e Gabriele Vagnato Quindi non avevano riletto Io vorrei vedere dei documentari girati nelle redazioni di alcuni giornali Come avvengono poi effettivamente queste cose Che poi ho fatto per la prima volta delle interviste con grossi giornalisti E sono molto puntigliosi, molto attenti Quindi chi scrive quelle... È uno scherzo che fa qualcuno ogni tanto, è un easter egg Sono dei giochi che fanno tra di loro giornalisti per burlarsi l'uno dell'altro Ma è giusto che si prendano gioco di noi del web Quello è vero È una gavetta Però non è solo... Io ricordo un paio di estati fa, prima della pandemia, quando c'erano tutti i concerti C'era un concerto a Milano di Florence and the Machine E il giornalista scriveva che prima avrebbero suonato i Florence Che avrebbero aperto i The Machine Che sarebbero saliti dopo sul palco Giuro, potete trovarla dove volete questa roba Però quello che stai vivendo tu, benvenuto, nel senso che in realtà è un qualcosa che molti hanno vissuto prima Io anche, nel mio, del quando tu passi dall'essere molto conosciuto In realtà comunque magari sui social come te sei super mega conosciuto Però c'è tutto un altro mondo Che è come se non si fosse mai accorto che ci sono delle altre cose Che è il mondo di Facebook Sì, che adesso è diventato... Prima era solo il mondo tradizionale Adesso è diventato il mondo un po' di Facebook Però ti rapporti con un mondo che sembra aver ignorato per tantissimo tempo Che ci sono delle altre persone, delle altre realtà E quindi quando si rapportano a... Insomma, quando la carta stampata e i media tradizionali si rapportano con il mondo dei social Succede qualcosa Ma anche... io me ne accorgo anche da poco, da cinque mesi Ho cambiato totalmente format su YouTube Prima facevo delle interviste A determinate persone E poi ho voluto cambiare Ho lasciato da parte le interviste Ho fatto cose più in giro per il mondo E ho visto che Mentre prima magari gli iscritti Si erano... Cioè, non facevo più tanti iscritti, no? Erano sempre lì C'era il pubblico che mi guardava Perché l'iscritto non è la visualizzazione L'iscritto è chi decide proprio di seguirti Capito? È una decisione importante Certo Quindi ho iniziato a vedere che c'erano altre persone che si iscrivevano... Cioè, ho iniziato a fare tipo 20.000 iscritti al mese La mia domanda, la prima, è stata... Ma dove... Cioè, queste persone... È incredibile Ma sei cambiato tu o hai cambiato la piattaforma? Penso che sia cambiato tantissimo io Tantissimo YouTube è cambiato molto È cambiato tantissimo perché ha avuto un momento di down, secondo me, incredibile Forse durante la quarantena La prima Poi le persone, secondo me, si sono annoiate di quello che c'era E tutti si sono rimessi in gioco Cioè, tutti, anche lo youtuber più anziano Anziano in termini di anni sulla piattaforma La piattaforma ha detto, vabbè, io devo cambiare i giochi Perché il mio pubblico non mi guarda più Lo stanno facendo tantissimi, no? Tutti si stanno avvicinando a qualcosa Su cui io Dopo la quarantena ho detto Basta, cose... Non ce la faccio più a fare cose che facevo prima Cioè, io faccio le cose in studio, no? Tipo... Sì Dovevo organizzare produzione, logistica Tutte cose che ti pesano sulle palle A voglia A voglia Anche perché ero da solo E ho detto, basta, inizio a fare cose in giro per il mondo Perché mi divertono di più, no? Ok Perché sono anche esperienze, no? Io, ad esempio, quello che faccio fatica a capire del mondo di Twitch Non di chi streama in giro Ma di quelli che stanno prettamente, insomma, nata anche un po' Forse esplosa anche durante la pandemia Dove ho rinforzato a stare in casa In realtà in queste giornate c'è tanta gente chiusa in casa tutto il giorno A streamare Che è bellissimo perché ti dà la possibilità di arrivare a tante persone, eccetera, eccetera Però ti toglie tutta la vita La vita vera È una cosa che io non riuscirei mai a fare Lo paragoni molto all'ufficio, forse Esatto A quel tipo di vita che esiste Ma anche l'ufficio stesso in realtà poi a suo modo ha dei contatti, delle socialità e qualcos'altro Però vabbè, probabilmente stanno anche cambiando un po' le cose Però quello che dici è giusto Io stesso, ad esempio, ho ripreso in mano YouTube dopo tanti anni Pur avendo e lavorando con i media, quelli tradizionali Quindi la radio e la tv E divertendomi tanto a fare anche quello Però YouTube è comunque un qualcosa che può esistere in parallelo Almeno la mia missione è quella Cioè l'idea è Io anzi utilizzo YouTube perché mi sono accorto che Poco altro arriva anche al pubblico Crea un legame col pubblico come magari YouTube o i social ovviamente In realtà sai che io mi metto sempre lì a pensare A farmi tutte le mie paranoie E stavo pensando l'altro giorno con un amico Che proprio YouTube tra tutti i social è quello che crea un contatto più vero Cioè perché Instagram è volatile Magari le persone sono interessate al gossip La cosa così che succede oggi e domani non se la dimenticano I TikTok è un social di contenuti Cioè le persone premiano il contenuto Non premiano chi lo fa Magari certo poi si affeziona Però meno affezione per ora rispetto a quello che fai Tipo tu sei quello di TikTok molte volte Però anche quello pian piano sta cambiando perché cresce il social Cresce la cognizione Trovi una chiave per poterti raccontare Vero assolutamente Però YouTube la cosa potentissima che ha È che tu decidi di andare su quel video Decidi di cliccarlo E decidi di guardarlo per 15-20 minuti E quindi è pazzesco La roba incredibile è che tu sei partito con YouTube La prima cosa che hai fatto è stata YouTube La prima cosa che ho fatto è stata Facebook forse Ok Poi mi sono... No forse YouTube A quanti anni? Insieme a 14 anni Tanto io ho un ricordo di te completamente diverso dalla persona che sei oggi Poi è colpa anche mia perché io tante volte E lo dico mi ha colpa in generale Spesso a volte arrivo con dei pregiudizi magari su alcuni ruoli Alcune cose È giusto Hai ragione Anche io avrei dei pregiudizi sul medico Quattro anni fa Non tanto quello Però insomma era un contesto Io ricordo stavo presentando un evento di una... Dal vivo di un... Di un brand Di un brand di una bevanda energetica Chissà Chissà quale sarà In realtà potrei chissà quale sarà E tu eri lì per fare forse delle interviste alle persone No io ero lì perché c'era dello sport di mezzo E io avrei giocato È vero è vero c'era la partita È vero è vero è vero Del noto sport che facciamo in Italia Sì sì il bowling Una bellissima partita di bowling me la ricordo ancora Però insomma tu sei cambiato tanto al di là di questo Anche quando abbiamo parlato un po' anche recentemente Quando ci siamo visti Sei molto più consapevole di quello che fai Cioè del mezzo Oggi quanti anni hai praticamente? Oggi ne ho 21 21 Domani chissà Ieri no Però oggi 21 Oggi 21 E sei molto più consapevole di quello che stai facendo Tantissimo Ma perché all'inizio io mi odio per quello che facevo Ma mi odio anche quando rivedrò questa cosa Non mi piacerà nulla di quello che ho fatto E prima questa cosa mi lacerava all'interno Però vedevo che al pubblico Cioè se facevo x like ad un tipo di contenuto Dicevo cavolo il pubblico vuole quello Devo fare assolutamente quello Sennò domani non mi caga nessuno Che è un po' anche il ragionamento frutto della rincorsa ai like Che è un ragazzino di 17-16 anni Quando arriva su questa piattaforma cerca i numeri Non cerca, non dice cavolo questo è uno strumento per cui io posso raccontarmi Posso dare un valore, posso raccontare delle storie Poi dopo la quarantena Proprio per quello che ti dicevo ho detto basta Faccio quello che mi piace Faccio solo quello che mi piace Non faccio più nient'altro perché penso che possa fare tanti like Hai fatto, hai seguito E questa è una grande cosa Io avevo una grande frustrazione in passato su questo Cioè il fatto dell'inseguire il contenuto E non sei tu che generi il contenuto Cioè ci sono ancora tanti creator vittime di quella cosa lì Ci sono tanti creator ma anche per esempio la tv tradizionale La vedo sempre meno appetibile Perché rincorre quello che pensano che possa piacere alle persone Non quello che magari Cioè grandi autori hanno O grandi personaggi del mezzo Hanno delle idee Facciamola perché è figa No, facciamo qualcosa perché quello fa ascolti Ed è una cosa che a lungo andare si vede che la fai male Anche perché poi la tv per forza arriva in ritardo Sulla cosa che è figa Per forza Però per esempio ci sono tanti programmi Cioè per esempio adesso Prima ne parlavamo Benveno Che è una roba che dici Ma vabbè ma non farà mai ascolti Va spopolato in un modo assurdo Però adesso anche perché quando fai un programma televisivo Ragioni anche su quello che poi succederà online Io una cosa che ho sempre pensato nell'ultimo periodo È che oggi quello che succede in tv Se non succede anche su internet Non è successo Cioè ci sono di casi di cose passate Completamente inosservate Ma che magari per una piccola cosa Che poi è finita online Allora tutti hanno la percezione Programmi chiusi Che non guardava nessuno Ma perché qualcuno ha ripubblicato Un determinato fatto che è accaduto Quindi fuori dal contesto Nessuno sapeva il contesto Ma ha buttato lì online Allora programma chiuso eccetera Ma magari quel programma nessuno l'aveva mai visto Però ci si era indignati eccetera O magari lo guardava un pubblico che capiva Ma certo Guarda faccio l'esempio Tanto è quello di Detto Fatto Non so se ti ricordi Siccome ci hanno lavorato anche autori amici Ovviamente nel contesto di Detto Fatto Poi magari qualche leggerezza ci può essere stata Non lo so Però nel contesto di Detto Fatto Aveva un senso Aveva un motivo eccetera eccetera Il programma era andato L'avevano visto La ragazza che mostrava come fare la spesa In modo sensuale Una roba di questo genere Che effettivamente preso Decontestualizzato Messo online Aveva avuto un impatto molto molto forte Però la maggior parte delle persone che l'ha criticato Non aveva visto il programma in quel momento E probabilmente non l'avrebbe visto neanche il giorno dopo Perché eccetera eccetera Però ormai aveva fatto talmente clamore E quindi in generale Un altro caso di tv e online È il caso di Valerio Lundini Lui è un genio Super Vale Che salutiamo Ti aspetto qua appena puoi Appena finisci di far smettere la guerra Perché recentemente ha fatto smettere la guerra Grande pezzo Grazie Valerio Però lui fa un programma molto bello Su Rai 2 Che magari non fa dati di ascolto Immensi per quanto è il discorso televisivo Ma ha un successo clamoroso È vero Online Penso sia il potere la seconda serata Per esempio ho avuto il piacere enorme Di lavorare con Andrea De Logo Certo Oltre che dal Papa dove hanno sbagliato il mio nome Anche in Tonica Questo programma che hanno tirato su Che è una bella sfida Cioè la tv tradizionale magari non ci investirebbe Però è riuscita a tirarlo su Mi ha detto non anche facilmente Sai che Maracca noi ci eravamo beccati con Andrea Sanremo Quando vi siete beccati voi Prima che poi si facesse il programma eccetera E mi ha raccontato un po' come è nata tutta la storia Ed effettivamente anche Andrea la dimostrazione Che alla fine i giovani oggi Di qualsiasi età in qualche modo Devono proprio cazzo andare sempre A prendersi questa possibilità A costruirsi Ci sono i frutti Il pubblico dice sì questa cosa mi piace Assolutamente Poi cosa vuoi Io capisco che ci siano anche dei cinquantenni Che guardano la tv Ed è giusto che ci sia il contenuto anche per loro Certo In questo momento la tv mi sembra che sia ad un unico Certo Abbia solo quel tipo di contenuto E il web abbia solo quel Cioè anche noi andiamo solo verso un target di persone Cioè non c'è l'influencer che seguirebbe mia madre magari Ci sarà una commistione Ma sarebbe bellissimo secondo me Perché il web sta diventando un altro anello insieme al cinema Alla radio alla tv Anche perché tu hai citato la seconda serata Che è una cosa che praticamente in tv non esiste più Quando magari ero più piccolo io E già siamo di una generazione di differenza C'era il concetto proprio della seconda serata Ormai invece i programmi finiscono a luna di notte Quindi quello è anche meno opportunità per chi come noi magari vuole farlo Tra l'altro mi fa impressione un po' fare questi discorsi tra virgolette con te Perché sei tra le nuove generazioni Quello che più però vedo incline anche al mondo della televisione Perché anche quello che fai online ultimamente su YouTube Sono dei format molto curati Molto anche con un linguaggio Sia perché sai che stai andando a parlare su quella piattaforma Ma anche molto legati a quello che c'è in tv Ma sai allora a un certo punto io ho detto Avevo prima avevo la presunzione di dire Io posso fare tutto Sono bravissimo, so fare questo, so fare quello Poi ti scontri con delle realtà Che in realtà ti fanno capire quanto fai schifo Cioè ogni giorno Io poi sono un eterno insoddisfatto Perché le cose che faccio domani mi fanno schifo E per esempio nel caso di quello che facevo online Vedevo che alle persone piacevano Ma a me non piaceva più a un certo punto Allora ho avuto la fortuna di collaborare con Umberto Aleggio Che è un autore che mi ha dato tantissimo Mi ha insegnato Infatti io dico sempre non ho lavorato con lui Lui mi ha fatto un workshop Perché mi ha Magari anche inconsapevolmente Perché non è che si metteva lì con la lavagna E mi spiegava le cose Però mi ha trasmesso una passione Nel fare quello che fa Lui è un autore storico Ha fatto le Iene Ha fatto Nemo Ha fatto Reality Ha fatto un sacco di programmi Che parlano di vita vera E descrivono un po' Quello che è il Il mondo wannabe Ma poi Umberto è molto bravo Perché questa è un'altra cosa Che abbiamo in comune Perché abbiamo avuto un contatto Più di un contatto in realtà Quando io avevo proprio iniziato Anch'io a fare i video su YouTube Quindi è uno molto attento Anche a quello che succede Oltre la televisione Esatto Lui la cosa che mi ha impressionato tantissimo È che di solito Chi lavora in TV Fa un po' lo snob Fanno gli snob Con chi viene dal web Tendono a ridimensionarti Ma tu non sai fare niente Invece lui è uno Che si è comunque messo in gioco Perché accostare il suo nome Magari al mio Sì poteva essere Un nessuno A livello televisivo Cavolo Magari le persone che lavorano in TV E decidono Lui che programma deve fare Invece ha voluto investire Su questa cosa del web Sarò grato a vita Perché mi ha insegnato tantissimo Mi ha insegnato a raccontare delle storie Mi ha insegnato a raccontare Il meglio e il peggio Di alcune persone È stato pazzesco E proprio per questo Ho avuto una certa inflessione Verso quello che è il mondo televisivo Ma perché era il suo linguaggio Ma perché era quello Che piaceva anche a me Sì Non è Cioè la tv non è tutta brutta Questa cosa Quest'odio verso la tv Vedo tanti che odiano la tv No È brutto quello che fanno Magari oggi Su alcuni programmi Perché io non li guardo Cioè provo a guardarli a volte Ma le prime serate Dei programmi Dei canali più seguiti Sono inguardabili Cioè magari mia mamma Che ha 50 anni E nemmeno lei Riesce a seguirli Però ci credo tanto E credo che nessuno Nessun media Includo anche il teatro In questo Perché lo considero Una sorta di media No? Non moriranno mai Cioè saranno eterni Tutti quanti E come per esempio La radio si sta modificando Verso il podcast Verso quel tipo di concezione Tutti i media Poi si trasformeranno Come il web No? Cavolo I vari streaming on demand I colossi Netflix Disney Plus Le piattaforme Sono diventate la nuova tv Chi gli impedisce Di domani Mandare 5 canali in diretta E fare la competizione Alla tv Cioè È labile Non c'è più quello che c'era C'è qualcosa di nuovo E a me piace tantissimo Sperimentarlo Quella che la sostanza In qualche modo Resta Voglio dire Ma sì Il modo di comunicare È così Da Però hai detto Prima una cosa Molto intelligente E saggia Che fa capire anche un po' Quello che è stato Poi il tuo cambiamento Perché tanti invece Creator Di diverse piattaforme Youtube in particolare Lo è stato per anni Cioè chi Partiva da lì Col fatto che aveva Delle visualizzazioni Col fatto che aveva Dei riscontri immediati Credeva in qualche modo Di aver Fatto Cioè io so tutto Io sono bravo Tu che cazzo mi spieghi Che io in un secondo Faccio un video Da un milione Di visualizzazioni Però non stai imparando Un mestiere Non so come dire È una cosa un po' Diversa È vero Il lavoro che stai facendo tu È imparare anche Un mestiere È avere più dimensioni Io oggi credo fortemente Che Qualsiasi sia Il tuo mestiere In questo Fantastico mondo Dello spettacolo Cioè Non puoi fare Una cosa sola Non puoi fare Solo la radio Non puoi fare Solo la tv Devi avere anche Una dimensione digital Che ti permette Di avere Sempre di più Un contatto Con chi ti segue E anche di raccontare Chi sei tu È vero Sono totalmente D'accordo Cioè Quando a volte Mi chiedono Anche le persone Con cui lavoro Cosa vuoi Tu cosa vuoi fare Nella vita Dove vuoi arrivare Prima ero sicuro Dicevo Cavolo Io voglio fare Stand up Voglio fare Il conduttore televisivo Voglio fare Adesso Dopo Soprattutto la quarantena Che mi ha cambiato tanto Ho detto Cavolo Ma non esiste Cioè Il concetto L'etichetta Che ci diamo Poi a un certo punto Non esiste più No Perché O ti ispiri A modelli del passato E quindi dici Faccio la stessa carriera Che ha fatto Dico un nome a caso Fiorello Certo Faccio quello Ma non esistono più I media Che c'erano ai te Quindi il mondo Sta cambiando Così velocemente Che non mi piace Dire io voglio Arrivare lì Poi ho avuto Sempre molta insicurezza In quello che ho fatto Perché mia madre Non ha mai creduto Cioè Non dice Ancora adesso Certe volte Mi manda i link Dei concorsi pubblici Del comune Di Vimercate Fai il concetto Perché è un posto fisso E quindi A un certo punto Soprattutto in quarantena Mi sono domandato Ma Io Qualcosa Di vero Cioè Se mi dicono Fai un compito Su questo lavoro qua Lo so fare E lì mi sono detto Cavolo No A meno che Tu non mi dici Gestisci un profilo Instagram Fammi le storie Però È sempre un mio modo Di comunicare Magari sbagliato Per altri E quindi Ho voluto Imparare Sto ancora imparando Tantissimo Perché quello che faccio Ad oggi su YouTube Per me Io la vedo molto Come una palestra No È una cosa YouTube è una cosa Incredibile Come TikTok Come Instagram Perché ci dà La possibilità Dà la possibilità A noi giovani Di avere una palestra E Fai un video sbagliato Fai un video di merda Perché capita Punto Le persone Poi una settimana dopo Ne fai un'altra Bravo Non è la roba della tv Sbagli un programma La tua carriera è in bilico Stai morendo Nessuno ti chiama più Cioè Mi è capitato spesso Sentire voci così E quindi Io ringrazierò sempre Il web E starò sempre Quello che farò Sarà sempre sul web Per questo motivo qua Perché è un mondo Meraviglioso Che ci ha dato Una possibilità Che magari Ma tu ci pensi Che sei partito Da lì E poi Qualche settimana fa Eri dal papa E quella è una cosa Più che dal papa Boh Cioè più in su È difficile Quello è una cosa Che io all'inizio Più in su vuol dire Che è successo Qualcosa di brutto Devo fare qualcosa Per Biden Esatto No ma La cosa incredibile Che io l'ho razionalizzata Dopo Perché all'inizio Andrea mi chiama Andrea ha questa Cosa meravigliosa Che lei è sempre Tranquillissima Anche nel dirti Le cose Sì Mi chiama una mattina Dove avevo ricevuto Solo notizie orribili E mi fa Gabri ti vai di fare Questa cosa Ma tranquilla In piazza San Pietro C'è Blanco C'è il papa C'è un altro Doveva esserci Un altro comico Incredibile E faccio Boh Sì Non lo so In che senso E lei Ma fai anche Un pezzo tuo Perché abbiamo dieci minuti Fai un pezzo tutto tuo E faccio un pezzo mio Poi Dici vabbè Inizi dal localino Di Milano Con trenta persone Piazza San Pietro Cioè Cavolo Si è fatta Viviamo in quella storia lì Certo E quando l'ho razionalizzata Ma perché l'ho razionalizzata Perché i media tradizionali Hanno iniziato a Chiedermi E allora Lì ho detto Cavolo Allora è una cosa che va oltre Il mio pubblico Oltre il pubblico del web Che è È un pubblico incredibile È arrivato Al pubblico Ai grandi Ai grandi E quindi se faccio una cazzata Se non piace ai grandi Ho detto Sì 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 No però a parte i scherzi lì È stato Pazzesco Ma lì come andate? Lei ha conosciuto il papa? Cioè come ha funzionato Quella storia lì Non ho Io c'ho sempre una teoria Che come È come nella sceneggiatura Di Aumetti or Mother Sai che c'è diverse teorie Io c'ho la teoria Della mia sfortuna Nella fortuna Ok Cioè io lì ho fatto Una cosa incredibile Pazzesca Poi c'era l'ultimo treno Alle 20 e 40 Il papa ha iniziato a fare La sua messa Alle 18 e 30 Ok E non c'ha Non c'ha Mi avevano promesso Perché era una cosa A cui tenevo tantissimo Di incontrarlo Di salutarlo Esatto Ok E allora Fa il giro Il papa non ci saluta Io ci rimango malissimo Perché ho detto No E la capa autrice Mi fa No tranquillo Quando ripassa Quando scende Vi saluta Io sono dovuto andare via Sì 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 E quindi Non ho potuto salutare il papa Che sarà un mio grande rammarico Ma vuol dire Che deve risuccedere Vuol dire che risuccederà Spero che possa risuccedere Risuccederà Senz'altro Perché poi quelle cose accadono sempre Pensa che aneddoto Che avrai Quando risuccederà Quando non risuccederà O quando non risuccederà Ma lì avresti potuto fare La selfata col papa Non è concesso Allora Non lo so Ma io da buon calabrese Cioè Laso tutte le regole E ho chiesto alla mia ragazza C'era la capa autrice Che ci faceva Guarda Non fate foto Perché non si possono fare Per sicurezza Per cose di sicurezza E io ho messo in mano Alla mia fidanzata Il telefono In grand'angolo Gli faccio appena passa Spara Poi vediamo se la postiamo Vediamo se vogliamo andare in galera o no E me la stampo gigante Perché cavolo No vabbè Poi c'è questa cosa Tipo del cartone animato Te la spiego Che quando vedo una persona Che ho sempre visto così lontana Mi sembra di vedere un cartone animato Oh ma a me succede Bravo Ma sei il primo Che fa questo esempio Che capisco perfettamente Perché l'ho fatto anche io Io solo con alcuni Io dico La sindrome di topolino Nel senso che io topolino Penso che non esista E quindi a volte vedo delle persone Che le ho viste sempre talmente lontane Che credo che in realtà Quelle persone in realtà Non esistano E poi la vedi Quindi dice come se io vedessi topolino Perché topolino non esiste Ma se un giorno me lo trovo davanti Più o meno la sensazione sarebbe quella Esatto Infatti è stato Oh cavolo L'ho visto lì Ho detto Non ci posso credere Esiste E questo va bene Incredibile Prima hai citato la tua famiglia Insomma tu sei Cresciuto a Catanzaro Cresciuto Catanzaro Lido Che mamma ci tiene Ma scusa Dicevi prima La mamma non ci crede O non ci credeva Allora No ma sai cos'è Che è lo stesso raggiamento E la tv Cioè è una cosa così lontana Per loro Che sono cresciute In un'altra generazione Che ormai non mi ci metto lì Nemmeno più a litigare Perché È realistico Che uno Campi Di Un tanto è la sua passione Perché il lavoro Visto da quella generazione È Alzati la mattina E vai a darare i campi Vai a farti il culo Il magazziniere Vai a fare dei lavori Che comunque Implicano qualcosa di manuale Sì E anche di molto faticoso Di molto faticoso Non piacevole Esatto Ecco Non piacevole Il fatto che mi piacesse Fare questo lavoro Per lei È quasi un Cioè Lo accetta Tantissimo È super fiera Anzi Anche troppo Perché va a dire in giro A tutti Con sta roba del Papa Poi vabbè In Calabria Cioè Ci ho avuto per giorni Lei che mi mandava Le fa l'insegnante Da pochissimo Perché Non ha mai fatto quel lavoro Adesso A 50 anni Si è ritrovata a farlo L'insegnante Mi mandava gli audio Dove Dopo lezioni Mi faceva Tutti i miei alunni Mi hanno chiesto Io ho spiegato Anche alla Bidella Puoi mandare un video saluto Alla figlia della Bidella Sì mamma Te lo mando Però è una cosa Che molto spesso Mi capita Che mi manda Il link ai concorsi pubblici Comunque Per farti stare Con i piedi per terra Per sicurezza E questa cosa Penso mi abbia aiutato tanto Perché Vedo in tanti ragazzini Che magari iniziano Chiamo ragazzini Ma Certo Sono neonato Magari che iniziano oggi Col percorso Che vengono pompati Dai genitori In una maniera Assurda O Comunque C'è una sorta Di esibizionismo Anche nel genitore Che li spinge A fare queste cose qua E penso che sia L'errore più grave Cioè Più ci credi In quello che fai Secondo me E più non Non ti esce Bene Quello che fai Non lo so Questa teoria È stata Perfetta Più ci credi Non nel senso Del credere Di potercela fare Ma più te la senti Diciamo Più ti senti di essere E meno sei E le persone Anche nel mondo Ti sarà capitato Tantissimo Nel mondo Dei media tradizionali E mi è capitato Di incontrare Persone Per esempio Giacomo Poretti Di Aldo Giovanni Giacomo Ci ho fatto Un talk Dove abbiamo parlato Di la comicità Prima La comicità Ora E Per me Cavolo Giacomino È una forma È una forma Idilliaca Come il Papa Certo Cioè Per me non è reale Aldo Giovanni e Giacomo Cavolo E Invece è una persona Umilissima Una persona Che vuole capire Vuole Vedrai Cioè Cerca di mettersi in gioco Anche a quell'età lì E a me questa cosa E invece poi vedi personaggi Che non sono nessuno Che se la sentono Cioè magari lavorano in quel mondo Però non sono arrivati a nessuna parte O non sono i numeri uno E sembra che stai parlando con Gesù E lì mi scendono tantissimo Ed è poi proprio per quello Perché è un grande sintomo di insicurezza Invece la persona grande È talmente comunque sicura di sé Che non ha bisogno di ostentare Praticamente niente Questo vedrai Insomma anche io Più o meno Faccio più o meno Il tuo stesso ragionamento E mi accorgo ogni giorno Che i veri numeri uno Sono poi quelli super Super easy E che sono insicuri Perché lui Io vedevo Ci ho parlato Cioè le cose che gli ho chiesto Sono tre Uno come fai a superare Chi fa comicità Ha sempre quella cosa Di ogni tanto Che dice A un certo punto Ah non faccio più ridere Punto finito E lui mi raccontava Che è successo tante volte Poi loro essendo in tre Cavolo E mi ha dato un insegnamento Incredibile Che in realtà Un insegnamento Mi fa Prendi la tua frustrazione Mettila in tasca Stai zitto E continua a camminare Che questa cosa Che non vuol dire Cioè è una cosa Che è semplice Come concetto Però cazzo Detto da uno Che ha fatto la storia Della comicità in Italia Ho detto Sono rimasto così Prendo e porto a casa Va bene Buono È pazzesca questa cosa Comunque ad esempio Tu quello che stai facendo Anche ultimamente Su YouTube Sono dei format Veri e propri No? Quindi strutturati Organizzati Scritti prima Immagino Ci sia una fase di scrittura Una fase di Anche confronto Forse con l'autore Con Umberto Allora adesso Non l'ho No Abbiamo fatto Social network Insieme Che è questo Racconto Della parte Un po' Nera Dei social Certo Poi a un certo punto Ho detto Perfetto Lui Lui Avendo un lavoro Che Cioè Gli prende tanto tempo In quello che fa Non potevo occuparlo Per tutto l'anno Insomma E ho iniziato Ho iniziato a fare Da me Sbagliando Anche ancora oggi Non sono soddisfatto Del risultato finale Però mi piace tanto Impacchettare le cose Cioè mi piace Dargli un colore Mi piace Dargli un'immagine Tipo Questo posto dove siamo È bellissimo Perché Penso tu ti sia ispirato A Cioè Hai un colore in testa Quando lo fai Hai un'immagine Volevi questo La stessa cosa Mentre prima Facevo un video Cioè Partivo da un'idea Come veniva Veniva Avevo quella roba lì Cioè Gli davo un contorno E penso che il contorno Sia una cosa poi È come il modo In cui racconti Una barzelletta Una storia E quello È il bello È quello che fa poi La differenza Esatto Non la storia in sé E lavorando con Umberto No però è vero Allora Tieni conto che ovviamente Io prima ancora Di sapere che lavorassi Con Con Umberto Che ci hai lavorato Quando guardavo i tuoi video Specie anche gli ultimi Ovviamente Come si fa sempre Quando arriva qualcuno di nuovo E fare dei paragoni Con qualcuno di vecchio Che è la cosa più sbagliata È stato fatto Ed è fatto anche con me Lo fanno con te Lo fanno con chiunque Ma ci sta È giusto In questo caso Il primo nome Che è venuto anche a me È stato quello di Enrico Lucci Che è un fenomeno Un numero uno È stato un personaggio Con cui tra l'altro Ha lavorato tanto anche Umberto Quindi Lavora tuttora Cioè Sono La stessa cosa Sono in simbiosi Io immagino Che lui abbia ritrovato Forse in te La versione più giovane Di Enrico Non lo so Ti ha mai detto questa cosa? Ma sì Tanto Io Da grandissimo fan Di quel mondo lì Di quel mondo Un po' irreverente E raccontare il surreale In modo serio Hai detto la parola perfetta Il surreale A me è una cosa Che fa impazzire E prima la facevo In modo Io prima avevo Di Umberto Avevo questo format Che si chiama L'interrogazione Dove capovolgevo L'intervista Invece Delle domande Dello scambio Di informazioni Mettevo a disagio L'ospite E cercavo di Insultarlo Cioè Cercavo di metterlo Proprio a disagio Quello che non si fa Di solito no Diciamo di solito no Intervistatore E E lo facevo In questo mondo Un po' colorato Che è il mondo Della classe L'interrogazione Ed ero Un mondo surreale Che mi ero creato io Ed era pazzesca Questa cosa Perché a me Il surreale Il mondo Monty Python Tutta quella roba No sense Mamma mia Mi fa impazzire E qui Però Umberto fa una cosa Enrico anche Sono la stessa persona Cioè Trasportano il surreale Nella vita reale E ti fanno Vedere Che quel surreale Non c'è bisogno Di crearlo Perché esiste Esiste Cioè Ed è Ed è pazzesco No Cioè Per me Per esempio C'è questa Nota Nota C'è questo influencer Che vive In un suo mondo E vive In un mondo Fatto di Vado a mangiare Il poke gratis A 15 euro E pago con le mie Instagram stories Mi sembra Cacchio Un cazzo di libro Di Orwell Che cos'è È una cosa Pazzesca E raccontarla Con quel velo Di ironia Con cui mi ha insegnato A farlo lui È stato pazzesco E certo Un po' Rimanda A A Lucci Perché Vabbè Loro hanno iniziato A lavorare Da Da quando Lucci Poi ha fatto Il cambio Ed è diventato Enrico Lucci E quindi Io ho capito Che Enrico Lucci È anche Umberto Ed mi ha insegnato Questa cosa Una cosa incredibile Che Le persone Con cui lavori Non è solo Quello che scende In campo È anche tutto Quello che c'è dietro E bisogna Sempre dire Grazie Alle persone Con cui lavori Le persone Che ti supportano Le persone Che è una cosa Che noi del web Soprattutto non abbiamo Anche perché siamo Sempre stati abituati A fare tutto Nella nostra stanzetta Come dicevi tu Cioè io faccio il video Da un milione di views Che cazzo me ne frega Di dire grazie Ed è una cosa sbagliatissima Perché poi Diventi Davvero completo Quando inizi a lavorare bene Con altre persone Bello Hai letto una roba Fighissima Bravo Questa ma Arrivendo in un libro Hai letto bene No non è vero Non c'è Questo C'è scrivo un libro No questo è figo È un concetto figo Ed è giusto Che arrivi anche Alle persone Soprattutto Chi ti segue Che magari A parte che Credo che chi ti segue Abbia già un'idea Ben precisa Anche O è cresciuto Non lo so Me lo domando sempre Perché il tuo video È un tipo di contenuto Che posso vedere Magari per caso Perché me l'ha linkato Un mio amico Mi fa Guarda che gente c'è lì Guarda chi è Oppure invece Seguirlo con passione Perché Si affeziona anche La tua figura Quindi è giusto Anche capire Mi domando Io mi domando sempre Chissà come mi vedono gli altri Chissà se mi vedono Come mi vedo io Allo specchio Anche quello È una roba Per esempio La mia voce Sì A un certo punto È stato un mio grande Cioè è stato l'unica cosa Per cui ho davvero sofferto Davvero? Sì perché ovunque andavo Anche mi è capitato Di venire a DJ Andavo lì E il pubblico Magari scriveva Ma che voce c'ha questo Ma doppia topolino È quello che fa Pavorito Quindi dispregiativo Sì perché Poi ce l'avevo ancora più acuto Una volta E invece è il tuo punto di forza E invece poi a un certo punto Tanti Tra cui Umberto Mi hanno detto Ma guarda che È la tua fortuna È il tuo punto di forza Ed è una cosa Che poi Cioè come posso dire Ho cambiato questa cosa qua E non mi ricordo Dove ero partito Nel discorso Posso dirlo? Non mi ricordo Stavamo parlando Delle persone Che si affezionano Come ti vedono Come ti vedono Come mi vedono le persone E quindi Prima era un mio grande difetto Era un mio grande Come posso dire Come si dice Un limite No Ti mi biva Sì Come quando sei vestito male Ok Un'insicurezza Un'insicurezza Cacchio Vedi che non mi viene Noi della generazione Z Sti termini Solo parole con la Z Quelli della generazione Sanno Io sono X Quindi so anche xilofono Esatto Credo di essere X Era una mia grande insicurezza E poi È diventata in realtà qualcosa Io credo Così che sia il tuo punto di forza Ma appunto adesso Luci Umberto Eccetera Non ci credo Che non ti hanno proposto Di fare le Iene Non ci credo No 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 Mai Mai Perché io ho un grande pensiero Non tanto su di te Ma io penso oggi Con YouTube Che senso hanno di esistere le Iene Non parlo del Io sono sempre stato super mega fan Delle Iene Anche io Sono cresciuto Sfoglio una porta aperta Conosco i tormentoni Ci sono alcune Iene Ai quali mi sono affezionato E in tanti casi Anche ispirato In una storia lunga 20 anni Credo Una cosa del genere Negli ultimi anni Ovviamente Come in tanti altri mondi Quelli della televisione Credo di non dire niente Di nuovo Di sconvolgente È anche un mondo molto competitivo Internamente Quindi ci sono tanti meccanismi Tante cose Che oggi Col fatto che uno Tra virgolette Ha il suo media personale Dici Ma perché io dovrei andare A sbattermi A litigare A creare A fare A prendermi anche Porte Non in faccia Sui denti Me le prendo piuttosto Per i fatti miei Cioè Magari Perché devo vivere Anche quelle che possono essere Delle ingiustizie E quando posso dire Io me lo faccio Per i fatti miei O il mio pubblico O le mie cose Poi mi gestisco Tutto io di conseguenza Chiaramente il programma Ha ancora una sua potenza Però cacchio È un'istituzionalità Per carità Però non è più Quella roba lì Di 20 anni fa Di 15 anni fa Oggi esiste Youtube E quello che fai tu Cioè gli ultimi in particolare Certo Sono esattamente Dei video Se tu avessi La divisa Delle iene Non mi stonerebbe niente Nel senso Con un linguaggio più attuale Più moderno È quella roba lì E quindi A me sembra Che poi Chi va a fare Magari Le iene Poi va incontro A tutta una serie di cose Che però Se tu hai già Una tua personalità forte Puoi anche Tra virgolette Ma sai Quando ti ho detto Ho voluto iniziare A coltivare Le mie passioni Era perché Una delle mie Più grandi passioni Era il mondo Del documentario E per me Le iene Sono un documentario Spendibile facilmente Cioè Non è la roba In Controluce Magari il documentario Che trovi Su National Geographic Capito Quelle robe Che ti cadono le palle Dopo 15 minuti È una roba Spendibile Che ti prende Nel racconto E Umberto Mi ha trasmesso Anche tantissimo Questo Che penso Abbia acquisito Anche nella sua Carriera Le iene Però Quando entri In quei meccanismi Lì Devi sottostare A delle regole Cioè Devi sottostare A delle regole Di chi stai In alto Che fai Gli interessi Non tuoi Fai gli interessi Della trasmissione Come giusto che sia È giustissimo E penso Che quella cosa lì In questo momento In un momento Dove Non lavoro Per industrializzare I contenuti Cioè Non lavoro Per Dire Devo fare 40 video Settimana E devo farli Perché devo diventare Miliardario Anzi Ho sempre combattuto Verso quella cosa lì Che persone Con cui lavoravo Prima Spingevano Spingevano tanto E mi sono allontanato Proprio per questo motivo Qua Con alcune persone Ho detto Io devo usare Questa piattaforma Questa opportunità Che io ho Come una palestra Cioè È la mia palestra È come quando Ti prepari Sempre Al match Della vita E io adesso Sono all'1% Del mio allenamento Quindi In questo momento Sto facendo Quello che mi piace Ma nel senso Che tu vedi Le iene Come la partita No Per cui ti alleni Non vedo Le iene Come la partita Anche perché Una cosa Secondo me È un format Che ha dato tantissimo All'Italia Ha fatto il costume Ha fatto il costume Ha svelato delle cose Pazzesche Incredibili Però penso che Anche chi lo faccia Si sia annuiato A farlo Ha inventato Un linguaggio Ha inventato Un linguaggio Tante delle cose Che noi facciamo oggi O modi di montare video O modi di parlare Arrivano da lì Tanti personaggi Alle iene ci lavorano Anche tanti amici Quindi so anche un po' Come funzionano alcune cose Però più che altro Persone che sono diventate grandi E che ancora oggi Per loro ha senso Il mio ragionamento Era più per chi Magari ha vent'anni oggi E dice Ma cosa faccio Ha senso buttarmi lì O ha senso buttarmi di là Quindi uno magari A volte non arriva neanche A fare quel ragionamento Guarda Mi è arrivata Una proposta a settembre Per non fare Non per fare le iene Ma per fare un altro programma Non dico simile Ma Che ricordava Competitor E mi sono chiesto tanto Poi anche perché queste cose Non le fai per soldi C'è questo grande Cioè c'è questo grandalone Che chi va in tv Vai per soldi No ci sono più soldi Sul web ad oggi Chi va in tv Non lo fa per quello Ma lo fa perché È una sorta di consacrazione Personale Perché cavolo Ci hanno insultato Per anni Certo Adesso ci danno Cioè ci vogliono lì Parlano di quello che fa Il web È una cavolo Di soddisfazione Di rivincita Mizzica E poi sono Io dico sempre questo Sono professionisti Che lo fanno E quindi Che ci sia una Mano sulla spalla Da parte loro Sia una cosa incredibile Vabbè Mi hanno detto Ti vuoi Vuoi provare a fare questa cosa? Vogliamo provarci Poi non era sicuro Che mi prendessero A fare questa cosa Però Mi avevano chiesto Delle idee Mi sono messo lì E ho detto Cavolo Ma Questa cosa A me Questo programma Non piaceva Anche se è un programma Che ha fatto l'Italia Cioè E ancora oggi Fa degli ascolti assurdi Cazzo il festival di Sanremo Che avevano provato Almeno Quello lo farei subito Ma lo farebbe chiunque E ho detto Alla fine Ho detto No Non ci provo nemmeno Ma perché Non era una cosa Che mi stimolava Certo ok Cioè Dico Ma perché Vado a fare una cosa così Che non mi piace Non mi dà soddisfazione Non mi dà una palestra Nulla Allora ho detto No Rimango sul web E spesso sono molto più Importanti i no Che i sì Che dice nella vita È vero Anche perché ti prende Tanto tempo E poi Cioè non puoi fare Tutte e due Capito È una cosa che Cioè non è una cosa Che entri Cioè per entrare In un meccanismo Ci vuole del tempo Chiaro Ed è impossibile Tra tutti gli incontri Surreali che hai fatto Cos'è stata la cosa più assurda Che ti è capitata Girando un video Ma sicuramente Dopo 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 un anno e mezzo Quasi che Bazzico questo mondo Che lo racconto un po' Adesso un po' di meno Però ci Sicuramente la cosa Che mi è rimasta più impressa È stata questa Vabbè Il mitico senatore Il mitico senatore Razzi Che per me è un'istituzione È incredibile È bellissimo Lui è È un mondo tutto suo Non capisco cosa sia successo Cioè È sempre stato così Io c'è stato un momento In cui perso la testa Che poi è una persona buonissima La cosa che quella Che però lui Ma se non fosse stato un senatore Cioè Non è un problema Non sarebbe un problema Esatto E quello è il problema Che ha sbagliato un po' Esatto Però è meraviglioso È meraviglioso Ok Queste Il mondo Dell'influencering Io le chiamo Certo Che si costruiscono Questa patina Fintissima Addosso Pensando di C'è questa parola Che il pubblico Sicuramente non conosce Ma tra di noi Che è Posizionamento Ti devi posizionare E Queste influencer Cosa fanno Mostrano qualcosa Che in realtà Non sono Cioè Mostrano questi mondi Incredibili Mostrano Queste case Cose pazzesche Sempre fighe Poi adesso C'è questa moda Di mostrare Magari il brufoletto Così sembri un po' più Uno su dieci Cioè ti fai dieci contenuti Uno Sei struccata C'è quella cosa C'è quella cosa meravigliosa E quello è un altro mondo Pazzesco Che andrebbe fatto Un documentario Però di ore Un giorno verrà fatto E un altro Un'altra cosa Pazzesca Ho conosciuto Una dominatrice Finanziaria Che è una cosa Che mi sono domandato Ho detto Ma cavolo Io questa cosa qua La posto Non ho la posto Ma era un mondo Così bello Cioè c'è questa ragazza Che vive Sottomettendo Degli uomini Ma non facendogli Delle pratiche sessuali O menandoli Che è una cosa ormai Ma chiedendogli Dei soldi E questi si sentono Sottomessi Perché gli danno Dei soldi Ma questa ha vinto tutto Questa ha vinto tutto Questa ha vinto tutto Però non è una persona Cioè Come ti posso dire È strane A questo mondo Che lo sfrutta È una persona Che interna A questo circolo Perché penso che Anche a livello psicologico Tu debba sostenere Delle cose Cioè l'uomo Prova piacere Nel ricevere La richiesta di soldi Da parte di una donna Sì Abbiamo fatto questa cosa Che si chiama Cash point Dove c'è questo Questa Dove c'è lei Che ha chiamato uno Mi è arrivato un messaggio Sarà lei È lei La dominatrice finanziaria Stronzo Non parlare di me Dammi i soldi Aspetta che metto Questa è la mia fidanzata Dammi i soldi Sicuramente Che è un altro tipo Di dominazione Nei tuoi confronti Ma figurati E niente Mi sono perso Aspetta Ah il cash point Lei chiama un suo schiavo Lo schiavo arriva E Vanno al banco Matti insieme Questo Ritira dei soldi Gli li dà E La pratica è finita E lui Bellissimo E Fomentato Penso eccitato Anche Alla base Sicuramente Ci sono dei problemi Ci sono dei problemi Però Io sono andato A fondo Infatti mi guardavo Perché Mentre giravamo Lei insultava lui Ok E io non sapevo Qual era il limite Cioè Naturalmente Io volevo Fare il video E dicevo Ragazzi Non litighiamo No no Ma a lui gli piace Ah allora Litighiamo Non lo so Che dobbiamo fare Madonna che situazione Era una cosa E la psiche umana Lì mi ha detto Cacchio Pazzese Fin dove si può arrivare Fin dove si può arrivare Quella è la domanda E E lo scoprirai Con i tuoi video Secondo me Qualcos'altro Qualcos'altro Ancora tirerai fuori Bellissimo In questo mondo patinato Ci sono i tuoi amici Chi sono i tuoi amici Ce li hai Ma io dico sempre Che il mondo milanese È un mondo Dico milanese Perché È l'emblema No Siamo tutti qua È l'estremizzazione Della finzione Cioè Ci sono tanti Tanti che Magari dice Sì siamo amici Però Cioè Poi l'amicizia È una cosa Un'altra cosa All'inizio io volevo stare Simpatico a tutti C'avevo questa fissa Io A 18 anni Arrivo a Milano Ero solissimo Io a un certo punto Prima della quarantena Piangevo nel letto Da solo Perché Milano Ti mangia No Cioè vedi che Le persone Che ammirino Non vogliono uscire con te Perché Magari Non sei In un determinato modo Magari Non Non appartiene ancora A un determinato mondo Esatto Il jet set Quella roba Non hai i numeri Per Alla loro altezza E poi a un certo punto Mi sono detto Ma che cazzo Me ne fotte Ma perché Devo inseguire Qualcuno Che Non vuole Condividere nulla Con me E quello è stato Il segreto Ma penso che Alla base C'era sempre Il fatto Che io facessi qualcosa Che non mi piaceva Fino in fondo E adesso faccio qualcosa Che mi piace Quindi Quando qualcuno Sei più sicuro di te Perché ti piace Quello che fai Ma sicuro Non lo so Però sicuramente Sì Sono sicuro In quello che faccio Cioè Dico Mi piace Oggi Va benissimo Se non ti piace Sti cazzi Cioè Va bene Così Non puoi piacere a tutti Ecco La cosa Che mi ha insegnato Tutta questa roba qua È Che non si può piacere a tutti E quando ti insultano È giusto Che ci siano anche insulti Perché Non si può piacere a tutti Punto Su dieci persone In una stanza Sei simpatico Ma no Haters Haters No Ma anche perché Ma tutti noi Non abbiamo haters Abbiamo persone Magari a cui Non stiamo particolarmente Simpatici O Mi è capitato Tantissimo Che prima Avessi delle persone Che dicevano Cavolo Mi facevi cagare Adesso mi piace Adesso mi piace Allora lì non sono haters Sono persone Obiettive Ma anzi È qualcosa di costruttivo Qualcuno a cui Non piace qualcosa È bellissimo Se fatto nel modo giusto È anche bello Invece della Situazione attuale Guardando intorno Tra i tuoi coetanei O i social C'è cosa che ti sta più sul cazzo Di questo periodo In generale Ma sui miei Allora Io mi dico Mi dicono sempre Che sono un vecchio Di merda Dentro un ragazzino Di 21 anni Con una voce Da simil donne E la cosa E la cosa La cosa che Che mi dà proprio fastidio È La presunzione Il trattare male Gli altri Modalità da bullo Che hanno Tanti della mia generazione Ma Da una volta Mi dà fastidio Dall'altra Dico cavolo Ci hanno 18 19 20 anni Anche persone della mia età O più grandi Mi è capitato Però Io sono sempre Dell'idea Che siamo tutti qui Per fare Una sorta Cioè Vogliamo arrivare Al nostro sogno E quindi A volte Magari alcune persone Fanno le cose brutte Per arrivarci Non Non li condanno Spero Possano capire Anche loro Cioè Che È inutile Che cerchi Di fare la rivista Cerchi di 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 mettere Di fare sgambetti Cioè Perché Alla base Come dici tu C'è una grande insicurezza Sia in te stesso Che in quello che fai Magari E quindi Quando mi capita Di vedere queste persone Tendenzialmente Vedo delle persone Molto insicure Di quello che fanno E poi si vede Perché magari fanno qualcosa Di super mainstream Che però a loro Non piace Di solito sono scarsi Quelli che fanno così È vero Di solito sono scarsi È vero E quindi Questa cosa qua Mi dà molto fastidio La vedo tanto Nella generazione Di tiktok Dei tiktoker puri Ti parlo Tiktoker puri Sì 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 Tiktoker puro Cos'è Quello che fa solo tiktok Il tiktoker puro È quello che pensa Di essere È piccolo Il nuovo Sì Fiorello Perché fa Fa un milione Ma non ha nessun mestiere Ma appunto Non sai fare nulla Ma queste cose Le hai riscontrate Anche invece Quando adesso Adesso che stai facendo Lo step Il salto Nel mondo Magari Molto di meno Molto di meno Ma perché vedo Molte persone insicure Che fanno un lavoro E sono sicure Di essere insicure Come ti posso dire Lo mostrano Oppure ti fanno vedere Cioè Sono persone Che comunque Poi magari Mi è capitato Di lavorarci Perché Anche in questo mondo Ci sono come ti dicevo Prima persone Orribili Però Le persone Con cui ho lavorato Per esempio Ho conosciuto Michela Michela Girò Andrea Ho lavorato Ho conosciuto Saverio Raimondo A stretto contatto Che sulla voce Ti avrà detto Giocaci Perché anche per me È stato qualcosa Poi di forte Ci sono tantissimi Che Ammiravo Luca Luca Ravenna Che ho visto La puntata Cioè Tantissimi Hai citato Tutte persone Che comunque Arrivano da un percorso C'è gente Che si è fatta Il mazzo Che conosco bene Anch'io da anni E che In qualche modo Adesso raccolgono Dei frutti Di qualcosa Che hanno seminato Mi ha fatto molto ridere Perché Quando mi hai detto Persone che hanno fatto Un percorso Ho pensato All'anteposto Persone che non hanno fatto E ho avuto Un'immagine Tipo Ecco Quello Quello No ma a proposito Non so se capiterà Anche a te Ma io strada facendo Mi accorgo Sempre di più Non tanto La persona che voglio essere Ma quella che non voglio diventare Trovandomi davanti Un sacco di gente Che dico Cazzo Io spero Se mai un giorno diventerò così Vuol dire che ho finito qualcosa Vuol dire che Non ce n'è più Sì perché alla base C'è una grande frustrazione Certo Della cosa più brutta Che una persona possa avere Anche se Siamo tutti un po' frustrati Ma qualcosa sì Ma poi come ti disse il buon Giacomino Esatto Di quella frustrazione La metti in tasca Pigliatela in tasca Dimmela in calabrese Sta cosa Allora Ti pigli la frustrazione Te la metti in tasca E vai e vai camini A posto Segnato Bellissimo Grazie davvero per essere passato Come si fa nel mondo del basket No io farei così Sì Sono anteposto al basket Ma è una partita o qualcosa? Ieri Ale della Giusta Mi ha fatto vedere La prima partita di basket Ha tu visto? Perché eri con Tommy Sì Beh ti sei beccato una bella partita Era Golden State Sì Sì Partita incredibile Mamma mia Vabbè finiamola qua Sì 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 Bella Grazie davvero In bocca al lupo Grazie mille Anzi no Devo ringraziare prima Il buon Ricchi Pedi Che in tempi non sospetti Qualche mese fa Mi disse No ma Devi parlare Devi chiacchierare Con Gabriele Vagnato Che secondo me È in gamba Vieni qua Vieni dilo qua Dilo qua che non si sente Attenzione Interviene Ricchi Pedi In Passa dal Basement Tra l'altro Ha una frase sul basket Molto interessante Che secondo me Dovrebbe dire Non so Come chiusura E perché Perché è utilizzabile Ok Vabbè La dico anche se so Che il tuo pubblico Cioè vi farà male Sì Prima a te E poi al tuo pubblico Perché so che sono affezionati Al basket Allora Io ho visto questa partita Di basket E secondo me Il basket È Il Io sono un grande appassionato Di wrestling Ed è la WWE Però con la palla Cioè ci sono questi Energumeni Le inquadrature Anche con questo Grandangolo in faccia Ai giocatori Che sono Attenzione Palla Palla 2 Time out Che sembra Michele Posa E Franchini Che fanno Godzilla Adesso Summer Archeo A volte A volte succedono Delle cose Che sembrano scritte Da una sceneggiatura Del wrestling Quello è vero Esatto Però per ora Dicono che sia reale Tutto reale Per ora Dicono che sia reale La cosa pazzesca Che chiudiamo Perché poi Anche Ci sono fatte le 9 di sera Ci picchiano qua E E il time out Cioè 15 secondi Ieri in Golden State Memphis Sono durati 15 ore Non finiva più 15 secondi Ogni 3 secondi Time out Interrompo Ma non è una cosa Giusta È solo abitudine Dobbiamo cambiare le squadre Cambiamo le regole Cambiamo le regole Perché non si può Fatti così Mi sa che ci dobbiamo andare A vedere una partita insieme Così la risolviamo A fare fatto Di nuovo Bella Ciao ragazzi